Ciao ragazzi, facciamo qua questo nuovo video per chiedervi un'aiuto, perché ho un grosso problema con geometri d'asci. Apriamo e è tutto perfettamente. È andato bene. Andiamo su Criati, cerchiamo un livello qua, non so, il livello che voglio di più, di più caro. Sì, è un attimo. È difficilissimo a scrivere, non ci vediamo molto poco. Ok, non devo fare l'error. Passiamo e cerchiamo. Ecco quello che appare su nulla. Se voi pensate che se vi siete, tutto esiste. Adesso vi mostro. Penso che non è così. Un attimo. No! Lo conoscete? Non lo vedo, è così. Non trovo niente, ma non esiste. Non esiste, se vi stiamo vedendo. Non lo so, non neanche se si... Allora, la stella è attivo. No, non lo so. Cerchiamo un demo. Qua. Se aci. Vente. Quindi, ragazzi, questo è un video non solito, da normale. Sì, vi voglio chiedere se ho dato una cosa. Allora, attimo.